Sono Tiziano Revecchi, mi occupo di alimentazione animale e ho partecipato a questo corso per migliorare la mia comunicazione e la mia capacità di poter comunque dialogare al meglio e mi porto a casa comunque davvero tante belle notizie ma soprattutto applicabili e per altre pratiche già a partire comunque da domani.